che dovevo raccontare, ha detto. L'immigrazione al centro dell'incontro tra i ministri degli interni di Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta sono riuniti a Venezia tutti quanti, un appuntamento che anticipa quello di fine giugno di Strasburgo, obiettivo definire una nuova politica europea migratoria. I flussi sono in continuo aumento, in Italia nei primi 5 mesi di quest'anno si sono avuti già 20.000 sbarchi contro i 14.000 dello scorso anno. Rocella Ionica in Calabria è diventato il nuovo punto di arrivo e questa mattina sono giunte altre 66 persone e il non sbarco in due settimane.